Buonasera a tutti quanti, questa sera fa caldo ancora, alle ore 11.02, c'è 27 gradi, 27 gradi, fa caldo oggi, martedì 12 settembre 2023, ci sentiamo domani mattina, buonanotte a tutti quanti, a domani, ciao a tutti. Abbiamo finito della storia di lavorare e andiamo a casa a dormire, ciao a tutti, siamo guardati il nostro video, ciao a tutti.